Ciao e benvenuto, io sono Sandro Roberto, sono un personal trainer e docente della Federazione Italiana Fitness. Oggi ti voglio presentare quattro sessioni di allenamento che rientrano nel 5th Movies Update. Sono quattro sessioni di allenamento dove ogni singola sessione, ogni singolo allenamento ha un obiettivo specifico. La prima sessione di allenamento viene intitolata il Functional Training Entry Lever. Cosa significa? Che questa sessione di allenamento è adatta a tutti, dove viene praticamente data un'infarinatura di alcuni esercizi del funzionale e serve proprio per introdurti a quello che è l'allenamento funzionale. La seconda sessione di allenamento intitolata Functional Training Burning invece prevede un allenamento per cercare di incrementare il metabolismo e di bruciare più grassi attraverso un metodo di lavoro intitolato PHA, quindi attraverso l'azione periferica del cuore. È un allenamento praticamente dove si va ad allenare prima la parte superiore e poi la parte inferiore del corpo, quindi distretti muscolari distanti tra loro proprio per cercare di incrementare e di stimolare il metabolismo. La terza sessione di allenamento è intitolata Functional Training Pumping. Lo dice la parola stessa, serve per creare maggior pompaggio, quindi rispetto alla sessione precedente, alla seconda, dove l'obiettivo è quello di bruciare più grassi, in questo caso l'obiettivo è quello di cercare di stimolare l'ipertrofia muscolare attraverso la produzione di lattato e attraverso la stimolazione, in questo caso per il sesso maschile, del GH. Questo ha lo scopo, la sessione di allenamento ha lo scopo di allenare o la parte superiore o la parte inferiore del corpo. L'ultima sessione di allenamento, intitolata Functional Training Athletic, è una sessione di allenamento volta per migliorare la performance atletica. In questo caso gli esercizi saranno ancora più dinamici, saranno ancora più stimolanti e saranno tecnicamente anche più complessi, proprio per dare una performance maggiore a chi li esegue. Per ogni singola sessione di allenamento, quindi per ogni tema che andrai a scegliere, potrai decidere in seguito di poter allenarti, continuare ad allenarti, in quanto per ogni singola sessione ci sarà una periodizzazione con un incremento di livello e di intensità. Non mi resta che augurarti un buon divertimento e ci vediamo all'interno delle sessioni di allenamento.